Un cordiale saluto ai nostri telespettatori per i ritrovati all'appuntamento con Il Fatto. Oggi torniamo a parlare di politica sempre nella prospettiva delle prossime elezioni regionali del 10 marzo del 2024. Ne parliamo con un altro degli ospiti che è già candidato perché insomma la notizia è circolata ormai da diverso tempo e sarà una delle punte di diamante nelle liste di Fratelli d'Italia. Il segretario provinciale di Chiedi è appunto candidato alla regione Antonio Tavani. Buon pomeriggio Tavani, benvenuto qui a Reteotto per parlare con lei della sfida elettorale che l'attende, che attende Fratelli d'Italia, partito di governo di questa regione negli ultimi cinque anni, partito che ha ovviamente ricandidato il presidente Marco Marsilio in una sfida che sembra essere a questo punto a due perché c'è una compattezza dell'altra sponda, un'altra proposta politica nei confronti di Luciano D'Amico. Ecco, iniziamo da questo discorso più in generale sulla prospettiva delle regionali. Centrodestra compatto, opposizioni compatte. Labruzzo in ogni caso sarà un laboratorio politico anche perché non è mai accaduto che un presidente eletto venisse riconfermato cinque anni dopo. Ma sì, intanto due aspetti, questo sicuramente è l'ultimo a cui lei accennava, direttore, si scriverebbe la storia di questa regione in quanto nessun presidente è stato mai riconfermato, ma al di là del dato statistico noi puntiamo a far premiare dall'elettorato un lavoro difficile, duro che ha attraversato gli anni del Covid. Non dobbiamo dimenticare quello che è successo negli ultimi cinque anni in regione Abruzzo e cheppure oggi dà i suoi primi grandi risultati nella linea del programma che questo gruppo di maggioranza, questa coalizione che è rimasta intatta, coesa, si era data cinque anni fa, quindi l'obiettivo è quello di convincere gli elettori del lavoro che si è fatto e per il quale si sono poste le basi e per i risultati che possiamo raggiungere nel prossimo quinquennio. In questi cinque anni è cresciuta Fratelli d'Italia, è cresciuta anche con il culmine della vittoria elettorale alle politiche e l'arrivo di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Lei ha seguito questo processo sul territorio di Chieti, è stato leader provinciale, a che punto siete anche nella crescita di una classe dirigente locale che poi confluirà credo anche nella lista che state ormai ultimando per le prossime regionali? La domanda mi fa molto piacere perché mi permette di ricordare con un pizzico di orgoglio e di umiltà sempre da dove siamo partiti, siamo partiti da un teatro vicino al Vaticano undici anni fa quando non ci credeva nessuno e uscendo da quel teatro con un amico, un fratello politico che oggi è il coordinatore regionale del partito ed è senatore della Repubblica, Etel Sigismondi, ci dicemmo dobbiamo costruire un partito fatto di competenze. È stato un lavoro durissimo, è stato un lavoro che però ci ha portato dallo zero al dato, io mi riferisco a quello delle ultime politiche, ben oltre il 26-27%, è assolutamente in linea con il dato nazionale, anche in regione Abruzzo, anche in provincia di Chieti e credo che il processo di costruzione di queste competenze, di acquisizione di queste competenze, di miglioramento di tutto quello che noi comunque quel sentimento e quei valori che avevamo e ci siamo portati appresso quando abbiamo fatto questa scelta che allora sembrava difficile, pazza, oggi però ci premia assolutamente a tutti i livelli, credo che oggi sia sotto gli occhi di tutti, un lavoro difficile che oggi peraltro arriva anche al suo compimento più alto in un partito che fa del dibattito interno la sua anima, perché queste prossime due sono le settimane dei congressi provinciali e noi siamo molto orgogliosi anche di portare questo momento di confronto della nostra base che peraltro non è mai mancato in questi anni. Antonio Tavani è stato un po' anche un sindaco simbolo delle battaglie dei piccoli centri per sfuggire alla marginalità per politiche che aiutassero le zone più periferiche della regione, in questi cinque anni è stato anche presidente dell'Ater di Chieti e attualmente è il capo della segreteria tecnica del sottosegretario Bergamotto al Ministero dell'Imprese e del Made in Italy. Da queste sue diverse postazioni anche di osservazione e anche di attività concreta nella gestione pubblica, che tipo di contributo pensa di dare al programma di governo e soprattutto poi nella realizzazione delle idee del centro-destra in questa battaglia elettorale? Intanto aggiungerei un punto di osservazione, che è quello dell'attività imprenditoriale che non ho mai lasciato, perché quello è un punto di osservazione molto importante e molto concreto che ti fa mettere ogni giorno le mani nei problemi dell'impresa, della piccola e media impresa, delle zone interne e di un centro, farà San Martino, di cui sono sindaco per la terza volta, a dire il vero, lo dico anche con orgoglio e soddisfazione, che rappresenta anche l'esempio di uno degli oltre 250 piccoli comuni della regione Abruzzo. Quindi sono punti di osservazione che mi aiutano a maturare quelle piccole competenze che metto a disposizione della mia attività amministrativa. Ovviamente da un anno essere nel Ministero del Made in Italy e delle imprese del Made in Italy a fianco del sottosegretario Bergamotto mi sta aiutando molto a livello personale, ovviamente come crescita professionale, ma credo che aumenti quel bagaglio di opportunità che possiamo rivolgere alle piccole e medie, ma anche grandi aziende di cui l'Abruzzo è ricca. Ci sono ventagli di opportunità che non sempre vengono colti perché le imprese sono anche travolte dalla quotidianità di una serie di problemi tipici delle imprese, dalla logistica all'approvvigionamento delle merci, la finanza, l'economia. Noi possiamo mettere a disposizione anche questo pezzo di esperienza a favore proprio di questo tessuto economico abruzzese in una fase, peraltro l'Abruzzo, l'ESA direttore, è una regione in transizione quindi perde un po' quelle caratteristiche, quei benefici e quei privilegi delle zone del vecchio obiettivo 1, però è in questa fase ibrida in cui viene accompagnata con altri interventi importanti a favore delle imprese a livello di fiscalità, a livello di incentivi e credo che questo ulteriore pezzo di competenze e di vita che sto vivendo in questo momento possa essere sicuramente utile. Invece nel rapporto con i sindaci, con gli amministratori, soprattutto delle realtà più periferiche della regione, quali sono le iniziative che la regione può attuare, può mettere in campo per superare queste difficoltà legate alla marginalità, ai servizi che sono sempre meno presenti anche per scelte che ovviamente non dipendono dalla regione stessa soltanto? Il rapporto con gli amministratori è sempre un rapporto di grandissima collaborazione, noi sindaci, noi cosiddetti primi cittadini siamo abituati a guardare al nocciolo del problema e non lo guardiamo mai con la tessera del partito che è una cosa importante, ma è importante cogliere anche l'opportunità e il risultato. Guardi, con i miei colleghi stiamo facendo un lavoro grandissimo e sono sicuro che chi non lo fa con me, lo fa con altri sindaci sui bandi del PNRR, noi abbiamo risposto a decine di bandi e in quasi tutti i bandi abbiamo costruito una rete di risposte. Quando mettiamo insieme intorno a un tavolo 10 sindaci, 8 sindaci, 12 sindaci, vuol dire che abbiamo preso contezza omogenea di una marginalità, di un problema, di un'evidenza, io tendo a non chiamare sempre marginalità quelle che possono essere invece opportunità e quindi già la presa di coscienza che il PNRR ci ha costretto e ci ha convinto a fare, quindi a metterci insieme per costruire una rete anche di bisogni, credo che sia una risposta molto importante per il territorio. Ovviamente cosa può fare la regione Abruzzo? Intanto continuare il percorso di uscita dall'isolamento infrastrutturale, è chiaro che l'Abruzzo ha un problema importante a livello infrastrutturale, però i passi avanti che la Giunta Marsilio e il Presidente Marsilio hanno fatto sia sulla Roma Pescara a livello ferroviario, sia sul riportare l'attenzione di ANAS, il grande tema delle strade di lunga e di larga percorrenza in Abruzzo, credo che siano attività importanti. E infine l'aeroporto, io credo che noi dobbiamo affascinare le nuove generazioni per costruire una regione che parla ai giovani, per parlare ai giovani ci vogliono le università a livello di quelle nazionali, ci vogliono le infrastrutture, ci vuole la banda larga estesa e diffusa in tutta la regione, ci vogliono opportunità di lavoro, credo che dal punto di vista turistico non ci manca nulla, dal punto di vista naturalistico non ci manca nulla, dal punto di vista produttivo, io lo vedo al Ministero, l'Abruzzo ha grandissime eccellenze a livello manifatturiero e a livello tecnologico, credo che ci siano le competenze ed è importante che una regione che vuole proiettarsi al futuro parli ai giovani, quindi parli alla generazione che viene dopo di noi e noi abbiamo questa doppia responsabilità amministrare e tentare di continuare ad amministrare questa regione lasciando a loro una regione più moderna, più smart, più attrattiva, con più possibilità e anche che non ci costringa come dire a partire. Mancano due minuti e mezzo allo scadere del tempo a nostra disposizione, mancano cinque mesi alle elezioni regionali, le chiedo dal punto di vista politico, qual è l'errore che il centrodestra non deve commettere in questi cinque mesi? L'errore che ogni tanto capita a chi magari come noi è aiutato da sondaggi, da sensazioni, da pacche sulle spalle, sedersi su un lavoro fatto, sedersi su un sondaggio, sedersi a guardare cosa fa l'avversario e quindi pensare che questa partita è una partita nuova, quindi quello che dobbiamo fare è pensare che questa è una partita nuova, che è già cominciata, il Rettore D'Amico sta già girando i territori, ma come del resto il Presidente Marsilio e tutti noi impegnati in questa campagna elettorale non dobbiamo pensare che l'abbiamo vinta, dobbiamo pensare che invece dobbiamo da una parte continuare a raccontare quello che abbiamo fatto e anche quello che non abbiamo fatto, perché in politica bisogna essere onesti con i cittadini, se cominciassimo a girare il territorio dicendo che abbiamo fatto tutto qualcuno ci direbbe che cosa vi ripresentate a fare, noi ci ripresentiamo per confermare un lavoro, per continuare un lavoro, per colmare anche quelle lacune che non siamo riusciti a colmare, anche per il Covid lo accennavo ad inizio di questo incontro e per continuare un percorso e una filiera che a livello nazionale ci ha premiato appena un anno fa e che oggi credo ci debba e ci possa premiare anche a marzo, quindi pensare che non l'abbiamo vinta, pensare che è una partita nuova, che la dobbiamo combattere rispettando l'avversario, ma anche insomma rimanendo uniti sull'obiettivo finale. Grazie, grazie in bocca al lupo Antonio Tavani, naturalmente avremo altre occasioni per incontrarci appunto in questa campagna elettorale di cui abbiamo conosciuto più da vicino uno dei protagonisti in questa trasmissione. Appuntamento alle prossime occasioni e buon proseguimento con i programmi di Rete 8, arrivederci. Grazie direttore, grazie a voi.